Il partito 10 volte meglio nasce soprattutto al torno a tre valori fondamentali, la competenza, il merito e l'integrità. Questi sono valori che purtroppo nel nostro panorama politico negli ultimi vent'anni sono veramente stati carenti. È un partito che ha una visione a dieci anni di futuro per l'Italia, che includa nuovi posti di lavoro, che includa un'attività sul turismo, sulla istruzione e educazione dei nostri figli e sulla salute. Mi sono occupata di salute per più di vent'anni e so che la salute nel nostro territorio italiano può essere ed è stata un'eccellenza incredibile nel mondo, però purtroppo stiamo perdendo, stiamo perdendo territorio, stiamo perdendo. Per esempio siamo scesi nella classifica della mortalità materna nel 2015, eravamo il paese con la più bassa mortalità materna nel mondo, attualmente siamo numero 15, siamo il paese che è al secondo posto con la più alta proporzione di anziani sopra i 65 anni dopo il Giappone. E di tutto questo la politica non parla, quindi dieci volte meglio intende avere una visione di futuro sui dieci anni e cambiare questa realtà.